ciao a tutti e benvenuti su gamer brain in questo video insegneremo a fare un nuovo bug nella mappa chalet di rainbow six siege dopo il recente aggiornamento di ubisoft vi anticipiamo che i due glitch che vi abbiamo svelato nella settimana scorsa sono stati fissati da ubisoft e quindi non funzionano più per fare questo bug selezionate l'operatore di difesa che preferite e regatevi nel garage in prossimità di questi secchi dell'immondizia scavalcateli premendo la abbassatevi totalmente con la b e posizionatevi sotto l'architrave di legno se lo farete correttamente riuscirete a eliminare tutti i nemici che salgono e scendono dalle scale se invece sbaglierete cadrete come in questo caso dai secchi e dovrete ripetere il bug ovviamente può essere fatto con qualsiasi operatore di attacco o difesa ma è consigliabile chiaramente farlo con gli operatori di difesa se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale se volete e lasciate un commento per qualsiasi domanda sul suddetto bug grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.